Ha deciso di manifestare ad oltranza Nando Amoruso, presidente del Movimento Vita, che ha iniziato un sit-in di protesta all'aeroporto di Crotone a sostegno della continuità dell'attività volativa. Come noto, dal 31 agosto termineranno i voli Ryanair per Pisa e da fine ottobre quelli per Bergamo. Amoruso ha posizionato una gabbia davanti all'ingresso dell'aeroporto, con una brandina, pronto ad affrontare anche la notte. Toglierà il picchetto quando riceverà risposte sul futuro dello scalo da parte di Sacalo delle istituzioni. Io vorrei sapere, da settembre in poi, i voli perché non devono esistere? Perché? C'è un perché? Ce lo devono dire. Io non mi muovo da qua, ho portato la brand, ho coperte, cuscine, non mi muovo da qua perché vogliamo sapere con esattezza il futuro di questa infrastruttura. Quasi inesistente la partecipazione dei cittadini alla mobilitazione, nonostante questa sia una problematica che interessa tutti. L'amarezza e il giramento di Gabbasisi è automatico perché tutte le persone, le autorità che hanno la competenza, se ne frega no! Siamo un popolo di apatici, di fatti oggi non c'è nessuno. A chiedere qualcosa che è nostro, questo è il nostro aeroporto e non ce lo deve rubare nessuno. Giuseppe Elaratta per la Cineos24